La parola d'ordine è ripartire a scuola in sicurezza, così all'unisono il sindaco di Chieti Ferrara, gli assessori alla sanità e alla pubblica istruzione Fabio Stelle e Teresa Giammarino, il colonnello Salvatore Falvo dell'Arma dei Carabinieri che con l'esercito renderà possibile lo screening alle dirigenti scolastiche dei comprensivi e delle scuole secondarie presenti in città. Chieti si prepara alla maxi campagna di screening per i più giovani in vista del loro ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie. I tamponi saranno eseguiti dall'8 al 10 gennaio. Verranno comprese le fasce di età della scuola primaria, le medie e anche alcune scuole superiori. Si pensa che si faranno quasi 5.000 tamponi. Il comune darà un appoggio logistico e ci saranno comunque il nostro personale che cercherà di coagiuvare il personale dei Carabinieri per queste funzioni. I tamponi sono facoltativi, sempre facoltativi. Non è solo l'Arma dei Carabinieri, è tutta la difesa che si è impegnato. Io sono il coordinatore per conto di Covi e avremo sul territorio sia squadre dei Carabinieri che squadre dell'esercito. Tutte, noi non escludiamo nessuno per garantire il rientro a scuola in sicurezza. Tamponi antigenici o molecolari? Su disposizione dell'autorità politica regionale sono antigenici. Questa proroga dell'apertura della scuola è ben vista da lei? Assolutamente sì. In quanti tamponi sono previsti all'incir? Noi faremo tutti quelli che si porteranno presso i nostri hub.